Il 25 novembre ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e proprio per l'occasione, in un 2016 che già conta più di 70 vittime di femminicidio, l'associazione vogherese Chiara, che ogni giorno combatte per prevenire la violenza di genere e assisterne le vittime, ha organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare la popolazione sull'argomento. Venerdì 25 alle 17.30 si terrà un flash mob in alcuni bar del centro di Voghera che hanno aderito all'iniziativa. Bar Cappelleria, Bar Caffè Portici e Bar Duomo 67 in piazza Duomo, Bar Pigari in via Garibaldi e Bar Teresito in via Bidone. Alcune volontarie dell'associazione richiameranno l'attenzione dei presenti con la lettura di un brano. Alle ore 18 ritrovo davanti al Duomo per dare inizio ad una fiaccolata che attraverso la via Emilia terminerà in piazza Meardi, dove alle 18.15 avverrà l'inaugurazione della panchina rossa, monumento dedicato alla lotta contro il femminicidio.